Questo disegno, attualmente in mostra Palazzo Bianco, fa parte delle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso. Si tratta del modello progettuale di Gregorio De Ferrari per la decorazione di una sala ed è stato riconosciuto come riferibile alla decorazione realizzata dal pittore nel mezzanino di Palazzo Rosso per la committenza di Anton Giulio II Bregnole Sale. L'ambiente del mezzanino a cui si riferisce questo foglio ha subito delle manomissioni nel secondo conflitto mondiale e per questo il disegno ci restituisce l'idea originale dell'artista che era quella di proiettare in un ambiente interno la decorazione esterna dei giardini e delle ville genovesi e dunque ritroviamo in questa parete dei rami di palma, dei girali fitomorfi, delle cartusche conchiglia, tutta una serie di elementi che metaforicamente trasferiscono la natura all'interno di una dimora aristocratica genovese. Grazie a tutti! Grazie a tutti!